Grazie a tutti. Perciò possiamo anche fare altro, tutt'altra cosa. Come Wonkawaii, che non devi guardare lui però. In una ricerca perpetuale ci permette a noi di capire... Oddio! Fuori dal suo contesto globale. No, non si può. Aghiacciante. Appunto, è aghiacciante. Sono in una ricerca... Grazie. Bellissima questa. Bellissima, bravo. Anche meglio di questo. Ti prego, ti prego, dai, dai, dai. Andiamo avanti? Interessa? Un pochino chiede. Allora, sei tu il ragazzo di Giorgio? Non sono fatti i tuoi. Che dobbiamo fare, Nandria? Signorino. Enrico. Un tassello che si pone sopra la loro creazione complessiva, artistica e... Brava! Sto veramente pieta. Ragazzi, mi viene da ridere. È benissimo. No, è morta. Mi verrai a trovare. Naturalmente, ha le mani fredde però da morto. Mi verrai a trovare. Guarda che meraviglia. Matteo? Giorgio? Quanto siamo frivoli. Sì, come fa senza bidet? È vero questo. Aeroplano. Aeroplano non mi va, se hai raggiunto. Un bacio lesbo, così. Brava, azione. Tutte robe che vanno di moda. Non mi impallate, tutti alti davanti a me. Uno sgabello per Alessio. Dall'altra parte, dall'altra parte, Gabriele, dall'altra parte. Una bella esperienza. Un lavoro intenso. Il regista è attento ai dettagli. I ruoli sono... Ci sono le vacche. Ci sono gli asini. Canticchiando una canzone romantica. Dai, magari veniamo io il lunedì. Sì. Guarda. Ok, grazie.